Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Sono Anastasia, ho 16 anni, odio la noia e mi piace litigare. Se mi provo chi ti spengo? Io sono una ragazza testarda, permalosa, non ho pelli sulla lingua e per questo molta gente mi odia. A me litigare diverte abbastanza. Anche i miei amici e i miei genitori dicono che sei troppo fina. Anastasia è abbastanza tostina, è vero, è solare, è estroversa, però ha anche i suoi lati un pochettino più spigolosi. Ci tengo che le persone sappiano la mia opinione e mi piacerebbe anche fargliela cambiare. Quando vedo una situazione piatta cerco di muoverla, perché io non sopporto la monotonia, infatti devo anche sempre muovermi, sono super iperattiva, non ce la faccio stare ferma. Odio il piatto o meno, non lo sopporto. Se al collegio cercheranno di spegnermi non ci riusciranno, nessuno riesce a spegnermi. Grazie. 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 Grazie.